Richi Tognazzi, regista Paolo Mazzarelli, uno degli attori, questo film per la TV che vedremo lunedì, L'Assalto. Che film è Richi? È un film, film film, nel senso che dura 100 minuti, va in onda in una serata sola, con Diego Batantuono, racconta la storia delle infiltrazioni dell'Andrangheta al nord. Penso che sia la prima volta che si racconta questo tema, quindi insomma un grazie a Rai Fiction, alla persona di Tini Andreatta che ci ha dato questa opportunità. Diego Batantuono, imprenditore, costruttore, in uno stato di grave difficoltà, per colpa anche della crisi, con una giovane figlia, Camilla Semino Favro, viene avvicinato da qui presente Paolo Mazzarelli nel ruolo di Giovanni De Luca, giovane nipote di un capo andranghetista, un ragazzo per bene, pulito, azzimato. Passo la parola a Paolo che forse... Prego Paolo. Sì, diciamo che la storia racconta un tentativo di avvicinamento a questo imprenditore da parte del nuovo volto dell'Andrangheta, che poi ha anche un vecchio volto nel film, che è quello dello zio del mio personaggio, che è interpretato da Luigi Maria Burruano. Io faccio appunto un po' il giovane andranghetista, che è la nuova specie, quella un po' descritta anche parlando di Camorra, però descritta da Saviano, che poi sono degli imprenditori fondamentalmente, degli imprenditori capaci, spesso laureati, che sanno manovrare il denaro e che investono nelle aziende in difficoltà creando scompiglio, perché chiaramente agiscono su persone in crisi. Un grande seduttore nel film, perché oltre a sedurre la figlia di Diego a Batantuono, Camilla, e quindi si crea una perversa storia d'amore, seduce anche a modo suo, con altri mezzi naturalmente, anche Diego Batantuono.